ciao a tutti sono Elena Boncompagni ho 41 anni e arrivo da San Biagio d'Osimo in provincia di Ancona sono mamma di Nicolò un bellissimo ragazzo di 15 anni nella vita di tutti i giorni sono una detta alle vendite presso un ipermercato un lavoro che mi piace tantissimo perché mi permette di stare a contatto con tante persone sono una donna molto sportiva ho praticato diversi sport calcio pattinaggio sci pallavolo ma la mia vera grande passione è stata la ginnastica artistica che ho praticato per 15 anni una passione che oggi condivido con mio figlio nel tempo libero quando posso vado a correre per mantenermi in forma e come dicevo prima visto che ho giocato a calcio sono il centro avanti della nazionale italiana di Miss Mamma mi appassiona il cinema soprattutto i film polizieschi quando posso vado al mare visto che ho l'immensa fortuna di abitare vicino alla splendida rivela del coniro curo molto l'aspetto estetico perché lo considero importante per gli altri ma soprattutto per me stessa quando posso vado dall'estetista e dalla parrucchiera perché il mio pallino sono i capelli cerco di essere sempre in ordine sia negli eventi che nella quotidianità sono una donna che non usa molto trucco perché mi preferisco acqua e sapone però con l'aiuto di professionisti e prodotti naturali cerco di mantenermi sempre ben durata ho deciso di partecipare al concorso Miss Mamma italiana web 2020 perché conosco da molti anni il concorso di Miss Mamma e lo apprezzo tantissimo ma soprattutto perché non sono una mamma molto tecnologica io volevo dimostrare al mio figlio che mi prende molto spesso in giro che anche io possa avere più spazio nel web e 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